Ciao, come ti chiami? Miriam E Raffaele Di dove siete? Siete di Bonza? No Di Formia E' la prima volta che partecipate a questa gara delle bancarelle? No Ah, quindi siete degli abitudinari Cosa ci proponete in questa bellissima bancarella? Cosa vendete? Eh, vendiamo No, no, no Con le conchiglie sopra Vendiamo E le bandane E le telecollane Avete venduto qualcosa? Sì Brave Salutate Ciao Una cosità E che cosità es E' un pietà Con la E Che sei re Che sei re Ciao, come vi chiamate? Io mi chiamo Alessia E lei si chiama No, no, no Cosa ci proponete in questa bancarella? Allora, ci proponiamo, diciamo, oggetti artigianali fatti in mano da noi ad esempio questa bellissima borsa fatta con soli stanghetti di carta, oppure altri oggetti come polipetti, oppure stelle marine realizzate con la sola plastica, tutti quanti oggetti riciclabili come bottiglie o anche fogli di giornali. Abbiamo diverse cose in questa bellissima bancarella, abbiamo anche degli orecchini realizzati con delle perline, oppure per richiamare quello che è lo spirito marino della bellissima isola di Ponza, abbiamo messo sulla bancarella anche diverse conchie davvero carine come le granseole che sono cusci di granso, oppure per richiamare sempre Ponza abbiamo utilizzato, prendendo dei vetrini, abbiamo ricostruito questa bellissima isola. Avete già venduto qualcosa? Sì, abbiamo venduto diverse cose, sono abbastanza piaciute a tutti quanti. Vi stai divertendo? Sì, ci stiamo divertendo molto. Bravi, buona bancarella. Buonasera, come ti chiami? Desiree. Cosa vedi in questa bancarella? Orecchini fatti a mano, limoncello di Ponza, origano di Ponza, alici sotto olio. Ti stai divertendo questa sera, ti piace? Sì. Sarai presente il prossimo anno? Sì. Ok, ciao, saluta. Come ti chiami? Ginevra. Ti stai divertendo questa sera? Sì. Hai venduto qualcosa? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Figuro, ci sarai? Ci aspettiamo. Il futuro di me ci siamo. Siete pronti a ballare il nuovo ballo dell'estate? La scimietta gratta gratta. Siete pronti? E allora iniziamo. Io vado 5. Io vado 5. Ah, pure lui. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Daniele Lorenzo Benziano. Tu dove sei? Il biro di Cianciano. Ti stai divertendo questa sera? Certo che sì, signore. cosa stai vendendo ok mi stai divertendo cosa ti chiami mi chiamo iris sei di ponza cosa vendono ma le fatti due questi bellissimi braccialetti si è difficile un po buona bancarella e ora attenzione bimbi e la scimmietta gratta gratta ricomincia alza la mano destra poi ti gratti la testa poi con quella sinistra gratti la schiena che vuoi giù mamma poi allarga le gambe fai un salto in avanti signora marconi 4 eh? eh? siam bello bravi bimbi mi chiami? francesco carlotta cosa ci proponete in questa bancarella? ehm io vendo le conchiglie le conchiglie le e le grazie tu invece cosa ci proponi? oggettistiche e dolci questi dolci che dolci sono? sono delle bombe al cioccolato alla crema dei biscotti e delle ciambelle ti stai divertendo? si è la prima volta che partecipi a questa gara delle bancarelle? tornerai a partecipare? tornerai a partecipare? ciao come ti chiami? Gabriele Giannetti è la prima volta che partecipa a questa bancarella? ehm si ti stai divertendo? si perchè ho guadagnato già un sacco di soldi ah bravo cosa ci vendi? quindi dicci un po' cosa ci proponi in questa bancarella? uova fresca, limone, melanzane, tutto e di più tutti i prodotti tipi di ponte bravo ciao ciao come vi chiamate? io Lorenzo tu? io Sara cosa vendete in questa bancarella? cestini e nostre vi piace questa bancarella? si vi state divertendo? si avete già venduto qualcosa? si bene ci saluto salutate ciao 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 come ti chiami? Giuseppe cosa vendi in questa bancarella? ah, liquori liquori e tu li bevi liquori? no dopo qualche anno no ma hai venduto qualcosa? si ti stai divertendo stasera? si è la prima volta che partecipi? no ciao un saluto un saluto cosa stai vendendo in questa bancarella cosa vedi in questa bancarella divertendo cosa ci proponete in questa bancarella le crostate i biscotti attaccati allo stuzzicadente va bene salutate volerò, resterò per sempre il bambino è questo il destino che incontrerò ciao, come vi chiamate? Giulia, Ludovica cosa vendete in questa bancarella? allora, i barattoli col sale colorato e delle conchicchie con dentro delle piante è la prima volta che partecipi a questa bancarella? vi stai divertendo quest'anno? sì avete venduto qualcosa fino adesso? bene ciao, buona bancarella è la prima volta che partecipi alla gara delle bancarelle? no ti sei divertita lo scorso anno? sì quest'anno cosa ci proponi? vendo delle collane, dei braccialetti, degli anelli e dei portachiavi e della marmellata hai già venduto qualcosa? sì buona bancarella grazie grazie volerò sulle ali del mondo del cielo infinito volerò resterò per sempre il bambino è questo il destino che incontrerò ciao, come ti chiami? ancora Rachele vi state divertendo questa sera? no ti stai divertendo questa sera? sì hai venduto qualcosa? sì hai venduto qualcosa? sì sì cosa ci proponete in questa bancarella? cosa ci avete qui? delle conchiglie? i ricci è bellissima la vostra bancarella penso che ci avete pure delle cose per andare a mare poi ci stanno i bracciali tutte le cose saluta la telecamera fai ciao la telecamera con la mano saluta si sveglia il mondo lo accarezza il sole si sveglia la primaia dentro un fiore ha questi occhi sopra i dentro stroficia queste ali trasparente ciao, come ti chiami? Ginevra quanti anni hai? cinque è la prima volta che partecipi a questa gara delle bancarelle? sì cosa vendi? cosa vendi su questo bellissimo banchetto? conchiglie di mare hai venduto qualcosa questa sera? sì saluta la telecamera saluta con la mano ciao, come ti chiami? Miriam quanti anni hai? otto è la prima volta che partecipi a questa gara delle bancarelle? no ti stai divertendo quest'anno? sì cosa ci proponi questa bancarella? conchiglie trucchi orologi ma io vedo anche dei bellissimi dolci l'hai venduto qualcuno? sì brava saluta ciao, come ti chiami? Giorgia quanti anni hai? otto sei vi state divertendo a questa gara delle bancarelle? molto sì è la prima volta che partecipate o partecipate tutti gli anni? partecipiamo quasi sempre brava avete venduto qualcosa? sì cosa ci proponete in questa bancarella? i mustardi che cosa sono questi mustardi? i viti di colenza batti con la busta bravi salutate la telecamera salutate la telecamera saluta la telecamera saluta l'uvole di canna su il cielo vila sulla tele sotto un velo vola, 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 vola la prima stai divertendo a questa gara delle bancarelle? sì cosa ci proponi con la tua bancarella? cosa vendi? Lavanda Lavanda? Sì C'è tanta gente, hai venduto qualcosa? Sì È la prima volta che partecipa a questa gara delle bancarelle? No Brava Ti aspettiamo l'anno prossimo? Credo di sì Ciao, saluta Saluti Ciao, come ti chiamo? Siamo Quanti anni hai? Di noi Ti stai divertendo? Divertendo Quanti anni hai? Due Saluta, saluta Saluta la telecamera Ciao Sulla cima dell'Olimpo c'è una magia C'è un'attività che mi ha sentito E' un'attività che mi ha sentito Sono pure Tanto Ma c'è una bambina che ancora da non è E' graziosa e che richina Forza di un suo nome è Ciao Ciao Come vi chiamate? Salvatore Maria Chiara Quanti anni avete? Sette Ocho Sette Vi state divertendo in questa cara delle bancarelle? Sì Avete venduto qualcosa? Sì E' la prima volta che partecipate o partecipate tutti gli anni? E' la prima volta Tutti gli anni Bravi Salutate Saluta È sposato con Gianone che è una dea pure lei Pollo Pollo combina guai Su nell'Olimpo felice tu stai La benemina di tutti gli dei Sei sei tu Pollo Pollo combina guai Ciao Ciao come ti chiami? Samuele Esciano Vi stai divertendo a questa cara delle bancarelle? Sì Sì E' la prima volta che partecipi? Sì Avete venduto qualcosa? Sì Bravi Due Bravissimi 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 Saluta Ciao Ciao Come vi chiamate? Ludovic Marco Quanti anni avete? Sette Sei È la prima volta che partecipate a questa gara delle bancarelle? Sì Avete venduto qualcosa? Sì Vi state divertendo? Sì Salutate Saluta la telecamera Pollo combina guai Su nell'Olimpo felice tu stai La benedina di tutti gli dei Sei tu Pollo combina guai È lui che è lui Lui L'incorregibile Lupen L'incorregibile Ale E' verba E' verba Dunque 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 Senti Vado con un'altra Allora Una canzone data Porta all'isola Tenice Forse queste Sembrano strane Ma la ragione Ti ha un po' preso la mano Ed ora sei Non può esistere un'isola Che non c'è Ma la ragione Ma la ragione La ragione Ogni Ma la ragione Il Grazie a tutti. 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 Allora, posso ringrazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pab e la coccinella. Pab e la coccinella. Spero di non è un'altra. 21, 21, 21. Perfetto. Vieni, vieni sul palco. la pancarella, la pancarella. la pancarella, la pancarella. la pancarella, la pancarella, la pancarella. la pancarella, la pancarella, la pancarella. prendete due prendete due numeri allora apri la mano e uno e due li leggete voi? sei no questo è sei e quattordici sei e quattordici 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 da parte di T-Shirt Makers e quattordici da parte della Porta del Sole grazie la numero sei la numero sei bancarella numero sei grazie la bancarella numero sei eccola qua wow una vampa un numero sul tanto non è fregato 38 numero 38 il numero 38 da parte da parte della Coccinella grazie un applauso al numero alla sesta bancarella settima settima bancarella sette bancarella numero sette sto soccando un gatto lo cosa ha detto bancarella numero sette vieni vieni mamma mia quest'anno mi devi manca d'orsio Laura Laura allora due numeri per questi questi bambini partecipanti allora il 34 e il sette i numeri bisogna ridarli non bisogna portarseli a casa va bene allora questo da parte penso sempre della Coccinella 34 e il sette adesso lo prendo io da qualche parte 4 5 7 da parte di elettronomestici onorati onorato allora la foto volete fare la foto? pagarella numero 8 si fa tendere Ginevra si fa tendere Ginevra Ginevra è tutta illuminata il numero 39 il numero 39 da parte della Coccinella sempre questo è tuo e la medaglia di partecipazione che bella che è Ginevra ma sei una principessa bellissima allora andiamo avanti poi la bancarella numero 9 9 9 9 9 9 eccole qua le due sorelline bancarella numero 9 buonasera due numeri e sono l'11 e il 51 11 e 51 benissimo un applauso del numero ok 11 e 51 da parte di t-shirt maker e di la Coccinella uno per te uno per te poi non lo so a casa mi vedi che cosa sono io non lo so allora andiamo avanti bancarella numero 10 bancarella numero 10 10 10 10 le più abbronzate come disse Silvio una volta allora grande laura aprite la manina la manina è una pala non è una mano 36 e 31 36 e 31 e 31 cioè ci aprite la manina chi va nella manina ecco lì ci vanno sette numeri allora da parte di minimarket Calafeola e da parte della Coccinella vedete voi poi vedete a casa che cosa sono e ve lo dividete voi ok grande un applauso a loro ciao bancarella numero eccoli qua tutti qua casa e chiesa praticamente bancarella numero 11 e si sono ingarbugliate 25 e 2 25 e 45 la Coccinella e quest'altro non lo so vabbè tanto gli sponsor li ho detto prima ah ecco scusami ah Saperi e Sapori e la Coccinella ecco qua uno per uno grazie ciao allora la bancarella la bancarella numero 12 12 eccolo qua wow ambedi che figo 29 29 premio numero 29 da parte di Lunata grazie alla medaglia eh allora bancarella numero 13 eccola qua a meno male si sono messi in file bancarella subito la medaglia e 44 gatti in file per sé con il resto di due sempre la Coccinella ormai riconosco la riconosco la l'incarto bancarella numero 14 la bancarella dei cesti ma buonasera ci facciamo attendere ci facciamo attendere numero che abbiamo che cosa è uscito da parte dei tesori del mare 55 uno uno ok allora va bene le medaglie ve le portiamo dopo le medaglie ve le portiamo vicino alla bancarella ok grazie un applauso scusate numero 15 il premio è il numero 35 35 ma sono 3 ah sono 3 sono 3 dammi 3 allora 35 37 e e 26 allora 1 2 sempre da parte della Coccinella 2 un attimo solo che arriva un altro eccolo là e quella è da parte di Saperi e Sapore ormai conosco le confezioni allora poi bancarella grazie le medaglie te le portiamo dopo eccolo qua grande un applauso guarda che giovinotto guarda guarda che giovinotto ah ma sei tu sei e non ti avevo riconosciuto è subito davanti lo so ti sei figlio allora il numero 47 è uscito da parte della Coccinella e per te la medaglia te lo diamo dopo ok veloce 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 così continuiamo a cantare poi 17 bancarella numero 17 la bancarella numero 16 buonasera buonasera è uscito è uscito è da parte della Coccinella da parte della Coccinella un altro ops là un altro piccolo piccolo regalino per Ginevra poi la medaglia te la portiamo dopo alla bancarella va bene? ok ciao Ginevra ciao manco a farla apposta il numero è 19 che è uscito hanno deciso di assassinarli da parte della Bougainville parte di Bougainville 20 bancarella numero 20 veloce veloce vai sali 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 ci vediamo dopo? che bella bellissima 21 bancarella numero 21 bancarella 21 bancarella 21 ecco la quale bancarelliste nella 21 si 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 comunque diciamo diciamo che non dovete andare via perché poi dopo ci sono altri regali facciamo un po' di canzoni e poi dopo allora qui sono due numero 30 da parte di da parte di ah Ludovica l'amante e yes qua sono due e da parte della coccinella ok ci vediamo dopo allora la medaglia c'è? no te la portiamo dopo ti portiamo dopo l'altra medaglia 22 la bancarella numero 22 eccola qua già erano pronte stavano qua sotto eccola qua tu ne sono come sono venuti allora 30 da parte della di Calafeola di si si basta Bacchi Calafeola le medaglie te le portiamo dopo dai allora 23 23 bancarella numero 23 e il premio è il numero 28 da parte di Duga no dell'Alta Lena l'Alta Lena eccola qua ciao la medaglia no la medaglia dell'Alta Lena ah 23 sono due allora quindi un altro premio scusami eh non lo so 22 premio numero 22 e questo è da parte di 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 Bugandino da parte di Bugandino bancarella 24 ok bancarella 24 un bicchiere d'acqua mi hanno portato mi hanno portato un filocchietto buon morto a me eccola qua buonasera la parte della ginestra numero 3 e la medaglia e Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Sette. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vado con un'altra. non può esiste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 premia. a tutti. il secondo premio. a tutti. a tutti. a tutti. Allora, la ginestra. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. t- lo leggi aiuto 21 21 21 perfetto vieni vieni sul palco la pancarella numero due non c'è la pancarella numero due che fai? mi prendi in giro due pancarella numero due ha preso il due due numero due eccolo qua il numero due la finestrella perfetto ok c'è la numero tre chi è? eccola qua eccola qua la tre la tre la tre la bancarella numero tre allora intanto una bella medaglia scusami mi faccio da parte una bella medaglia per la bancarella numero tre una medaglia di partecipazione scegli il numero due numeri uno uno e quindici uno e quindici aspetta prendo io uno dai uno uno e quindici uno e quindici perfetto grandi un applauso bancarella numero quattro la numero quattro abbiamo Antonio vieni qua si è spaventato a me si è spaventato si è spaventato ma sono così brutti non lo so a volte mi faccio delle domande tredici tredici a volte mi faccio delle domande ma faccio così paura questo è tuo da parte di t-shirt maker ciao ciao allora la bancarella numero cinque la bancarella numero cinque le nostre terze classificate prego prendete due prendete due numeri allora apri la mano e uno e due li leggete voi? sei no questo è sei e quattordici sei e quattordici 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 da parte di t-shirt makers e quattordici da parte della porta del sole grazie la numero sei la numero sei bancarella numero sei grazie la bancarella numero sei eccola qua wow una vampa un numero soltanto non è i fregatori trentotto 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 numero trentotto il numero trentotto da parte da parte della coccinella grazie un applauso al numero trent alla sesta bancarella settima settima bancarella sette bancarella numero sette sto soccando un gallo lo cos'ha prima bancarella numero sette vieni vieni mamma mia quest'anno mi devi manca tossio Laura Laura allora due numeri per questi questi bambini partecipanti allora il trentaquattro e il sette i numeri bisogna ritardi eh non bisogna portarseli a casa va bene allora questa da parte penso sempre della coccinella trentaquattro e il sette adesso lo prendo io da qualche parte quattro cinque sette da parte di eh elettronomestici onorati onorato allora la foto volete fare la foto? sì si la numero otto ah si fa tendere ginevra si fa tendere ginevra ginevra è tutta illuminata un 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 soltanto ecco il numero trentanove il numero trentanove da parte della coccinella sempre questo è tuo e la medaglia di partecipazione che bella che è ginevra ma sei una principessa bellissima allora andiamo avanti poi la bancarella numero nove 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 eccole qua le due sorelline bancarella numero nove buonasera due numeri e sono l'undici e il cinquantuno undici e cinquantuno benissimo un applauso del numero ok undici e cinquantuno da parte di t-shirt maker e di la coccinella uno per te uno per te poi non lo so a casa mi direi che cosa sono io non lo so allora andiamo avanti bancarella numero dieci bancarella numero dieci 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 le più abbronzate come disse Silvio una volta allora grande laura aprite la manina la manina è una pala non è una mano 36 e 31 36 e 31 e 31 cioè ci ti aprite la manina ti vanno la manina ecco lì ci vanno sette numeri allora da parte di minimarket calafeola e da parte della coccinella vedete voi poi vedete a casa che cosa sono e ve lo dividete voi ok grande un applauso a loro ciao bancarella numero eccoli qua tutti qua casa e chiesa praticamente bancarella numero 11 ehm si sono ingarbugliate 25 e 2 25 e 45 la coccinella e quest'altro non lo so vabbè tanto gli sponsor me li ho detto prima ah ecco scusami ah saperi e sapori e la coccinella ecco qua uno per uno grazie ciao allora la bancarella numero 12 12 eccolo qua wow ambedi che figo 29 29 premio numero 29 da parte di Lunata grazie alla medaglia eh non c'è per dirmi allora bancarella numero 13 eccola qua a meno male si sono chiesti in file bancarella subito la medaglia e 44 gatti in file per sé con il resto di due sempre la coccinella ormai riconosco la riconosco la l'incarto bancarella numero 14 la bancarella dei cesti ma buonasera ci facciamo attendere ci facciamo attendere numero che abbiamo che cosa è uscito da parte dei tesori del mare 55 1 1 ok allora va bene le medaglie ve le portiamo dopo le medaglie ve le portiamo vicino alla bancarella ok grazie un applauso il premio è il numero 35 35 ma sono 3 si sono 3 ah sono 3 sono 3 dammi 3 allora 35 37 e e 26 allora 1 2 sempre da parte della coccinella 2 un attimo solo che arriva un altro eccolo là e quella è da parte di saperi e sapore ormai conosco le confezioni allora poi bancarella grazie le medaglie te le portiamo dopo eccolo qua grande un applauso guarda che giovinotto guarda guarda che giovinotto ah ma sei tu sei e non te ho riconosciuto è sto tutto davanti lo so ti sei figlio allora il numero 47 è uscito da parte della coccinella è per te la medaglia te la diamo dopo ok veloce 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 così continuiamo a cantare poi dai 17 bancarella numero 17 la bancarella numero 17 buonasera buonasera che numeri ci abbiamo che questi due 27 27 e 42 non so se canna in canna 27 e 42 da parte della coccinella e da parte di Brandina grazie ci vediamo dopo ciao è uscito e da parte della coccinella da parte della coccinella un altro opsla un altro piccolo piccolo regalino per Ginella poi la medaglia te la portiamo dopo alla bancareta va bene ok ciao Ginevra ciao manco a farla apposta il numero è 19 che è uscito hanno deciso di assassinarmi da parte di Bougainville parte di Bougainville 20 bancarella numero 20 veloce veloce vai 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 sì 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 sono uno allora sì allora 48 il numero 48 grazie la medaglia la medaglia ci sta ok dai ci vediamo ci vediamo dopo che bella benissimo diciamo che non dovete andare via eh perché poi dopo ci sono altri regali facciamo un po' di canzoni e poi dopo ci siamo allora qui sono due numero 30 da parte di da parte di ah Ludovica Lamante e yes qua sono due e da parte della coccinella ok ci vediamo dopo allora la medaglia c'è? no te la portiamo dopo ti portiamo dopo l'altra medaglia 22 la bancarella numero 22 eccola qua già erano pronte stavano qua sotto eccola qua ti chiede come si vengono fatto allora 30 da parte della di Calafeola di sì sì basta Bacchi Calafeola le medaglie te le portiamo dopo dai 23 23 bancarella numero 23 e il premio numero 28 da parte di Buga no dell'Alta Lena l'Alta Lena eccola qua ciao la medaglia no la medaglia ah 23 sono due loro quindi un altro premio scusami eh non lo so 22 premio numero 22 e questo è da parte di di Buga da parte di Buga da parte di Buga bancarella 24 ok bancarella 24 che c'è su un bicchiere d'acqua mi hanno portato mi hanno portato di filocchietta buono molto a me eccola qua buonasera la parte della ginestra numero 3 e la medaglia per la parte di Buga di Buga di Buga di Buga di Buga di Buga Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.